Vediamo la Francesco Twitty allora E poi ancora come con chi? Con le squadre della Serie A con cui dividiamo il campionato e far vedere loro che siamo più bravi Fatti! Quindi sei con noi per il sitino alla Federcalcio per protestare per tutti i rigori indicati Giustamente poi il pragmatismo dei tifosi veri della Roma viene subito fuori Ma ci hanno messo pure il nostro Matteo Roscioni Se non è rigore manco questo per Sky Sport quando è il rigore per la Roma? E l'hashtag era AtalantaRoma Giustamente F4Fake gli risponde solo quando ci danno quindi mai E giustamente è così Andiamo a vedere ma tu ti sei perso questa lite clamorosa Sono volati gli stracci tra Mario Adinolfi uomo politico, filosofo, blogger anche C'era un'altra cosa che faceva Che cosa aveva fatto pure? Giocatore di scacchi Ah giocatore di poker Allora fa lo spiritoso da non tifoso della Roma Branchino del film di Fantozzi Avete sofferto, siete stati come sempre feroci in determinazione Avete insegnato ai bimbi come si fa Non ci si lagna, si lotta, si vince Tifoso giuventino Adinolfi Alessandro Gasman, tifoso della Roma e Twistar Gli risponde Diciamo che i bimbi hanno assorbito dai genitori anche il gusto di urlare merda Al portiere avversario Bene squadra, tifo un po' meno E Adinolfi piccato Ma da ragazzino quando ti favi non hai mai detto una parolaccia ai bimbi tifosi avversari? Io sì Ah ma io so fio del popolo E qui a un certo punto Gasman si risente Se av... con un errore purtroppo caro Alessandro Se avvalli una cosa simile sei un cretino Del popolo E comunque se dicevo parolacce da bambino mi beccavo la sveglia Adinolfi che da... Attento cultore dell'italiano Lo prende un po' in giro Io avvallo, avvallo Le ipocrisie degli attori che si dicono merda 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 E poi se la prendono con dei bimbi Invece no A polemica più a buffo E Gasman Confermo Sei un cretino Gli risponde Gasman Adinolfi interessante A corto di argomenti passi all'insulto Però se dei bimbi ne gridano uno Fa il censore Il genio Clap clap attore E il genio Pinuccio Ma chi è sto Adinolfo? Ha ragione E andiamo avanti Questa è la perla secondo me della settimana Anche se non è quella che premiamo noi Ilario di Radio Radio Un nostro collega La media punti della SS Lazio È di 1,214 a partita Poco sopra la soglia della retrocessione Fate scattare l'allarme E il genio della Roma.net Ma che fretta c'è Grande Questa è perfetta Questa è bellissima Che fretta c'è Dei lanciare l'allarme Rudy Canfail Mostra la maglia della tina E dice Ma anche con questi nerazzurri farete Oh no E questo non è niente male Niente male Il derby si avvicina Chiudiamo Mi sa proprio che a Singapore Il lunedì è il giorno di over 5 e mezzo Dice Simone Donati Dopo aver visto i risultati di ieri Ma alla fine Andiamo a vedere perché Mauro Zarate Ha salutato Pandev in questa maniera Mamma mia Quanto sei forte Goran Ma vogliamo andare a vedere perché Ringrazia Goran Pandev in questo modo Dovremmo avere Eccolo qua Pandev cosa dice Un piccolo filmato Sotto la Montemario Pezzo di Io ho riconosciuto Lerda L'ex giocatore del Cesena Ah era un pezzo di Lerda Lo sta dicendo al suo ex presidente L'ho dito Hai capito perché Zarate Lo ha ringraziato tanto? Questi sono gli ex laziali Molto legati ai loro dirigenti C'è della stima C'è dell'affetto Eh sì Eh sì Grazie a tutti.